Amici amanti degli anni 80, un pochino degli anni 70, ma soprattutto in questo caso appassionati di retro game, di videogiochi vintage insomma. Sì, lo so, l'ho detto più di una volta, questo non è il canale più adatto, anche perché io non sono competente in materia. Tuttavia un mio amico mi ha portato all'attenzione un videogioco anni 80 che qui, a giocato nel tempo, non potevamo continuare a trascurare. Sto parlando di Custer's Revenge, il videogioco che a mio avviso ha rappresentato il gioco più schifoso della storia. Il perché di questa nomea, beh, lo scopriremo, come al solito, assieme dopo la sigla. Dunque Custer's Revenge. E con questo videogioco andiamo ancora a parlare di quell'identico periodo storico che in parte abbiamo già affrontato con un altro videogioco assai brutto, ovvero Etile Straterrestre per Atari 2600. E anche in questo caso stiamo parlando di un videogioco proprio per Atari 2600. E anche in questo caso stiamo parlando dell'identico anno, 1982. Pensate, persino il periodo dell'anno è molto similare, perché se per Etile Straterrestre parliamo dell'inverno 1982, a pochi passi dal Natale 1982, ebbene per questo Custer's Revenge stiamo parlando dell'autunno 1982. Un altro punto in comune è che, come sappiamo, Etile Straterrestre viene definito il videogioco che portò al fallimento la mitica Atari. Similarmente Custer's Revenge viene definito quel videogioco che portò al fallimento l'azienda Mystic. Ora, un paragone tra le due aziende è davvero improponibile. L'Atari è una vera e propria leggenda. È un'azienda che ha scritto non pagine di storia, ma addirittura capitoli interi della storia del videogioco e delle console. Mentre la Mystic rappresenta un'ennesima meteora degli anni Ottanta. Debutta sul mercato del videogioco mondiale nel 1982, fallisce nel 1983. Da cosa è nata la Mystic? È nata dall'unione di due aziende americane antecedenti. Ovvero la Caballero Control Corporation, dedita alla realizzazione di video per adulti, insomma videoporno, e la America Multiple Industries, una società di programmazione. Ebbene, l'unione porterà alla creazione di quella che è considerata nella storia la prima azienda dedita alla creazione di videogiochi porno o comunque soft porno. Anche se non andremo a parlare del primo videogioco porno della storia. In quel caso il primo atto spetta ad un titolo secondario del 1981, neanche compatibile con le macchine Atari, bensì con l'Apple. In primis Apple II, se non erro. Non parliamo neppure del primo videogioco porno per la stessa Atari, perché già la stessa Mystic ne aveva deliberati ben due prima di questo titolo. E allora perché lo consideriamo così schifoso rispetto agli altri? Beh, è proprio la trama, lo scopo del videogioco che è qualcosa di veramente improponibile, di ignobile. Ma di cosa parla? Allora, personaggio principale è un certo George Armstrong Custer. Insomma, per gli amici, il buon vecchio generale Custer, che non solo non è stato sconfitto dagli indiani e non è morto in quella famosa battaglia, ma gironzola ancora felicemente a Arzillo, completamente nudo, e con il pene perennemente in erezione. Scopo del gioco? Beh, schivare tutte le frecce che i nativi americani lanciano nascosti da delle colline per raggiungere una bella nativa americana, completamente nuda, legata ad un palo con cui co-cupolare. Insomma, una merda di trama. Anche la giocabilità era qualcosa che rasentava lo schifo. La grafica, invece, era a due passi sopra la merda. Insomma, con queste grandi qualità, la Mystic non ha venduto nemmeno un videogioco. No, in realtà è successo esattamente il contrario. Pensate, pur risultando, il titolo più costoso dell'intero catalogo battale 2600-1982, con un prezzo consigliato record di 49,95 dollari, 50 dollari nel 1982, era tanta roba, Questo titolo riuscì a vendere nei primi mesi qualcosa come 80.000 unità. E allora come ha fatto la Mystica a fallire con un tale fatturato? Beh, è semplice. Più il successo aumentava e più alcune associazioni, tra cui, giustamente, quelle legate ai nativi americani, si arrabbiavano. E, arrabbiandosi, muovevano delle proteste, più o meno ufficiali, verso quel videogioco. Solo che non le muovevano, in prima battuta, verso la Mystic, ma verso la Atari. La Atari, però, fece la farza verginella e disse Ah, io? Ah, io non ne sapevo niente. Anzi, anzi, sarò io che li denuncerò, perché stanno diffamando il nome della mia azienda. In realtà, la Atari un po' mentiva. Eh, 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 furbetta. Perché in realtà era ben consapevole e ben felice della realizzazione di questi videogiochi. Tant'è vero che aiutò lei stessa la pubblicità, sfornando il motto Se l'abbiamo fatto di quella forma, ironizzando sulla forma fallica del joystick, beh, è un motivo, ci sarà. Ma, fatto sta che la patata bollente passò alla Mystic, che quindi doveva elaborare una difesa. Beh, la difesa in questione sarà un capolavoro magistrale. Qualcosa che io a undici anni avrei fatto di meglio. Sì, perché, riassumendo, dice proprio così. Dunque, allora, sì che innanzitutto è un video ironico ed è facilmente comprensibile. E poi, se vogliamo precisare, la nativa americana in questione era anche consenziente. Ma come cazzo fai a dire che è consenziente? Che perfino nella grafica della cover del videogioco era ben rappresentata, ben legata ad un palo. Non penso che una donna nuda, legata ad un palo, si possa definire consenziente. A questo punto è ovvio che con questa difesa la Mystic ha perso ogni battaglia legale e ha dovuto ritirare ogni singolo videogioco in questione e quindi è fallita. No, non è andata nemmeno così, perché la Mystic in realtà non ha mai perso nessuna causa e non ha mai dovuto ritirare nessun videogioco. E allora perché è fallita? Beh, per una serie di concausi. Allora, indubbiamente grande motivo di difficoltà era la continua merda che questa Mystic riceveva dalle varie associazioni e a ben donde, visto quello che aveva pubblicato. Ma gran parte della sua disfatta l'ha fatto l'anno 1983 che come sappiamo e abbiamo già parzialmente affrontato con il video dedicato a Etile Staterrestre ha rappresentato la prima grande crisi mondiale del mondo del videogioco e molte aziende, tra cui la Mystic stessa, fallirono proprio in quell'anno. Dunque, finisce qui la storia di Custer's Revenge, oppure no? Manca ancora un piccolo capitolo. Perché con la morte della Mystic qualcuno altro comprò i diritti per ripubblicare quel gioco. Ovviamente si fece un po' furbo. Innanzitutto, cambiando il titolo, ma prendendo alcuni accorgimenti per evitare altre proteste. Il primo accorgimento, allora, innanzitutto, almeno nella grafica della cover del videogioco, la bella indiana non era legata ad un palo, così almeno l'ipotesi della consensualità poteva stare in piedi. L'altra versione che veniva venduta assieme a quella che vi ho appena detto non era la bella indiana legata ad un palo, ma era il generale Custer's. Fatto sta che in tutte le salse questo videogioco, scusate, ma fa veramente schifo, perché si va ad ionizzare su una pagina che è una pagina davvero triste della storia americana. Anzi, a mio parere, gli americani di oggi dovrebbero trovare il tempo per fare le giuste scuse agli americani di ieri, ovvero i nativi americani. Finisce qui questo video dedicato a Custer's Revenge, il videogioco che a mio avviso ha rappresentato il videogioco più schifoso della storia. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!